Cari lettori e lettrici, la novità letteraria che sto per presentare è un romanzo di narrativa contemporanea, un'opportunità per immergersi in una storia che parla di cadute e di rinascite, mostrando quanto la determinazione e la voglia di non arrendersi possano trasformare anche le vite più infrante. La trama del libro La neve dello scrittore Giorgio Piller, pubblicato dalla casa editrice Bookabook, è la seguente. Eva, Marco, Antonio e Mila. Quattro protagonisti, quattro storie che si intrecciano, quattro cuori infranti e quattro anime in cerca di rivalsa. Eva è una giovane promessa dello sci di fondo che, in una terribile notte, perde un grande affetto e i suoi sogni. Antonio, suo padre, è combattuto tra il dolore e le responsabilità di un genitore. Marco è un ragazzo ambizioso che ha sempre dovuto lottare per una vita serena. Mila ha un passato turbolento e un'anima cupa. Qual è il fil rouge che lega queste quattro vite? Quale sarà il loro riscatto? Questa storia corale trasmette la grinta e la voglia di non arrendersi, anche quando la vita sembra accanirsi con cinismo. Grazie per l'attenzione e buona lettura. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi della trama del libro presentato. Se hai voglia di condividere il tuo pensiero lasciami un messaggio. Celebra la magia della lettura condividendo questo video e aiutami a diffondere l'amore per i libri. A te non costa nulla, per me sarebbe un bel gesto di gratitudine. Ricorda, ogni piccolo gesto può fare la differenza. Per non perdere le novità letterarie iscriviti al canale.